E' un momento storico ed eccezionale. La crisi greca finisce stasera in Lussemburgo. Così il commissario agli affari economici Pierre Moscovici ha commentato l'esito dell'Eurogruppo che dopo otto ore di negoziato nella notte tra giovedì e venerdì ha raggiunto un accordo sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti. Atene potrà posticipare di dieci anni, quindi nel 2032, il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ricevuti dal vecchio fondo salva Stati. Il debito greco è sostenibile sul lungo periodo, ha dichiarato il presidente dell'Eurogruppo Mario Senteno, e abbiamo confermato il nostro impegno a sostenere la Grecia negli sforzi di riforma per continuare sulla via della crescita sostenibile. Il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire dichiara ai nostri microfoni. Ci abbiamo messo molto per raggiungere un accordo. Penso sia un buon compromesso che consentirà l'economia greca di recuperare la questione del debito di Atene e alle nostre spalle. La Grecia riceverà un'ultima tranche di aiuti di 15 miliardi, ma su pressione della Germania l'alleggerimento del debito è stato condizionato al prosieguo delle riforme messe in piedi ben 88 nelle ultime settimane. La nostra corrispondente sottolinea che questo storico accordo, raggiunto dopo diversi incontri bilaterali e trilaterali con le figure chiave, ovvero i ministri delle finanze di Grecia, Francia e Germania, è una bella boccata d'ossigeno per Atene fino al 2032. D'altra parte, fino al 2022 il programma di sorveglianza impone misure fiscali e regole molto rigide. Apo il Luxemburgo, per la Euro News, Efi Kuccio Costa.